Ciao a tutte le videomatrici e videomatori di Senza Fissa di Mora, benvenuti in questo nuovo promo di una super intervista che ho personalmente tradotto, doppiato e montato e che potete trovare solo ed esclusivamente in forma integrale su numero6.org. Come ho già spiegato più volte i contenuti che vengono trattati in questa intervista, il modo in cui vengono trattati certi argomenti, si parlerà infatti di clima, di islamofobia, delle sinistre, della globalizzazione, della comunità europea e dei suoi problemi di gestione interna e esterna. Si parlerà soprattutto di come viene veicolata l'informazione, che è uno dei grandi temi che mi appassiona e che Olivier Milza tratta in maniera superba, superlativa, un grandissimo esperto di comunicazione visiva, di immagini e di ciò che veicolano le immagini in tutti noi, tramite tutti gli apparecchi che conosciamo, quindi telefonini, computer, insomma tramite i mass media. Un'analisi a 360 gradi di questo professore storico e di storia, moderna e antica, che vi invito tutti a vedere in forma integrale su numerosei.org. Per vedere le forme integrali dei video che io traduco, doppio e monto e soprattutto di tutti i video, di tutti i creatori di contenuti che pubblicano su numero sei e siamo sempre di più, siamo moltissimi, ne troverete sicuramente alcuni che conoscete tutti e che producono video in esclusiva solo per questa piattaforma. Se decidete di affiliarvi alla piattaforma, potete utilizzare il link che trovate in descrizione. Perciò vi auguro una buona visione del trailer che ho esplicitamente prodotto per voi. Grazie ancora a tutti e buona visione. Buongiorno a tutti e benvenuti a Zoom, oggi in compagnia di Olivier Milsa. Buongiorno, voi siete professore in classe di storia. Cominciamo subito. L'attualità, che è ormai divenuta omnipresente su tutti i media, diventa come una droga. Da dove viene questo bisogno per i francesi. In primaria importanza da un'illusione che è creata dalle immagini. Immagini che sono un'ottima, formidabile invenzione del ventesimo secolo, ma che ormai hanno un livello inflazionistico ingestibile. Telefoni portatili, computer ci forniscono giornalmente immagini in tutto il mondo e ci danno l'illusione di capire e di comprendere il mondo intero. Posso usare un termine estremo, esagerandolo, che l'attualità non esiste. Esistono dei flashback, dei flash di attualità visuali tramite fotografie, ma da quel momento in poi va assolutamente approfondito, per non cadere nelle trappole iconiche delle immagini usate dai mainstream. Lei afferma che ad oggi per avere il potere, per prendere il potere in uno stato, non c'è bisogno di un'invasione militare, ma c'è bisogno di invadere i media, cioè di controllare le informazioni. Oggi invece chi ha il controllo è ovvio, sono le catene, sono i grandi mainstream, i grandi gruppi che controllano questi grandi mainstream, che danno la stessa informazione, con le stesse fonti, con la stessa priorità, nello stesso momento, tutte le sere, alle 8. La trappola è che noi crediamo che queste trasmissioni e queste informazioni siano obiettive, perché vediamo un giornalista che le dà, mentre in verità seguono un'ideologia. Il problema è che noi ci dimentichiamo che la vita politica, anche se è mascherata da grandi propositi e grandi temi morali, segue sempre e comunque un'ideologia, esattamente come era moltissimo tempo fa, ma oggi la vediamo attraverso la televisione e pensiamo che sia vera. Di quale ideologia si tratta? La nuova religione di oggi che ho esaminato nel mio testo, nel mio libro, è che la religione dei diritti dell'uomo o la religione del riscaldamento globale, cioè esiste un riscaldamento globale, ma l'approccio usato dai media è quello del dogma delle scatole cinesi, è come la religione dell'immigrazione. Io, per me, sono figlio di immigrati italiani, quindi non ho niente contro l'immigrazione quando è legale, quando è ben motivata, ma quello che sta succedendo oggi è che si sta giustificando e si sta dipingendo ogni tipo di immigrazione e di immigrato, come un dio motivato da cose positive. Lei crede che noi siamo in democrazia oggi? No, io credo di no. Come la qualifica? Democratura, cioè ha il gusto ancora della democrazia, l'aspetto della democrazia, ma non lo è più. Voi dite che l'attualità non può contenere la verità. Cosa vuol dire? Vuol dire che per avvicinarsi alla verità non possiamo passare da delle immagini di attualità. Potrei darle mille esempi. Uno su tutti, quello delle torri gemelle. Al momento che vidi le torri cadere, ebbi il sentimento agghiacciante come tutti. Guardando queste immagini pensai, wow, che film americano. Un regista qualsiasi americano di film catastrofici avrebbe potuto girare queste immagini. È qui che esiste questo paradosso che per comprendere, per capire bene quello che sta succedendo adesso, bisogna ritornare al passato attraverso letture, libri, eccetera, eccetera, uscendo dal ritmo che ci viene imposto. C'è un'accelerazione storica, tecnologica, e un'accelerazione della domanda, della spiegazione semplice, per poter spiegare a tutti un mondo così complesso. Voi avete intitolato un capitolo intero del vostro libro, Al ritorno degli imperi, di quello di cui stavamo parlando prima. In che modo l'Unione Europea reagisce a tutto ciò? Non può reagire semplicemente perché non è un impero e non lo è mai stato. Mi spiego. La Cina storicamente ha un impero di più di 5.000 anni e quindi lo ritrova facilmente. Stessa cosa fa la Russia dal IX secolo in poi con l'impero russo, con gli zar e con tutta la storia imperiale russa. Gli Stati Uniti stessi ha creato in maniera molto curiosa una sorta di impero in un'epoca molto recente, comportandosi come un impero. Guardando questi esempi si capisce che tutti hanno culturalmente, a parte forse gli Stati Uniti, dei precedenti politici imperiali. La comunità europea non ha nulla di tutto ciò. L'Europa è stata totalmente incapace di approfondire e di trovare i veri punti in comune. Pensiamo al cinema, ad esempio. Il neorealismo italiano, che era proiettato ovunque, unificava l'Europa intera. Culturalmente tutti andavano a vedere un film di Visconti, di Fellini, oppure la Nouvelle Vague francese o i movimenti polacchi. Non esiste più un grande stile, una grande qualità europea che univa dei popoli. Ad oggi siamo agli opposti, ognuno fa quello che vuole. In Europa si difendono gli interessi LGBT, che come principio può essere totalmente giustificato, ma attraverso delle pratiche idiote e violente, volte a portare e a mettere in dubbio l'eterosessualità delle persone, come un problema, sospette. Io la ringrazio per questa intervista, invito tutti gli ascoltatori a comprare il suo libro. Molte grazie di avermi invitato. Grazie. Grazie.